ricordiamoci l'intento di studiare Torah e di connettere la nostra anima a Dio mettere in pratica e portare la redenzione shalom a tutti la Tereb ha parlato precedentemente che le dieci sefirot divine da esse derivano le dieci forze dell'anima dell'uomo poi la Tereb ha detto attenzione c'è una differenza immensa simile alla differenza che c'è tra l'albero bello stupendo e la cenere e dunque le dieci sefirot che ci sono nell'anima dell'uomo è risaputo che le midot i sentimenti si dividono in sette per cui ci sono dieci sefirot di cui sono tre intellettuali sono le prime tre e poi ci sono sette sentimentali adesso la Tereb lascia le tre intellettuali per la fine e parla delle sette sentimentali e tutti i dettagli dei sentimenti derivano da uno di questi sette sentimenti che questi sette midot sette emozioni sono la radice di tutte le emozioni tutte che in tutte le emozioni in generale derivano da queste sette e dunque c'è la mida l'emozione della bontà di dare senza limite e poi c'è l'emozione la seconda emozione di gvura di forza di trattenere di contrarre di non dare così tanto oppure di non dare del tutto poi c'è la terza emozione la terza mida carattere più giusto se non l'emozione è sbagliato di misericordia sarebbe dire di avere pietà e misericordia su chi si merita di avere pietà e misericordia e questo è la via intermedia tra chesed e gvura perché chesed è dare a tutti anche a chi non c'è nessuna pietà su cui non c'è nessuna misericordia perché non gli manca nulla non è per niente sofferente ha tutto e dunque siccome la misericordia è una via intermedia si chiama Tiferet Tiferet vuol dire gloria, bellezza, armonia come degli abiti belli, gloriosi per esempio cos'è un abito che è colorato con diversi colori con tanti colori mischiati intonati bene uno con l'altro in maniera che questo è gloria e bellezza invece proprio colori mischiati in maniera armoniosa invece un abito che è di un colore non c'è armonia lì perché armonia sono due cose diverse che vengono armonizzate dunque la vera bellezza è proprio quando c'è due c'è un contrasto c'è un'intonazione c'è un'armonia poi dopo ci sono questi caratteri essenziali che sono Chesed, Kvura, Tiferet e poi ci sono i paralleli di questi caratteri come la persona è pronto per trasmettere sarebbe dire io voglio dare zaka o voglio esprimere la mia bontà allora c'è Chesed, Kvura, Sì, qui, là alla fine, ok però quando vado a esprimere in maniera concreta lì c'è un altro passaggio sarebbe dire nel momento che la persona dà energia dà insegnamento da zaka quello che è viene chiamato nel linguaggio da Hasidut Haspa'a dare ma è dare una sostanza deve consigliarsi come dare come insegnare in maniera che quello che riceve possa ricevere quello che stai dando per esempio uno vuole insegnare una saggezza a suo figlio se lui dirà a suo figlio tutta questa saggezza esattamente come si trova nella sua mente il figlio non potrà accettarla non potrà comprenderla all'incontrario soffrirà di questo cosa deve fare? deve organizzare questa saggezza in un ordine speciale giusto? concetto dopo concetto pian pianino passo per passo secondo le capacità del bambino del figlio e questo concetto questo consiglio che uno pensa ok questa è l'idea adesso come la trasmetto questo si chiama nezzach ehod nezzach significa letteralmente vincere ehod significa letteralmente splendore cosa significa nezzach ehod? sono i paralleli ai reni che danno consiglio e anche paralleli ai testicoli che elaborano cucinano il seme lo fanno materializzare di più perché il seme da dove deriva in origine deriva dalla mente per cui la goccia che esce in origine è una goccia della mente sarebbe a dire il concetto intellettuale della mente che deriva dalla mente del padre non si può trasmettere al figlio esattamente come è nella mente del padre che lì è molto raffinato molto fine ma deve cambiarsi questa idea questo insegnamento da come è elevata e raffinata nella mente del padre e diventare un'idea che non è così astratta che non è così elevata che è più afferrabile così che il figlio la potrà accettare nella sua mente e nella sua comprensione questo è simile al processo della goccia di seme che viene dalla mente del padre e scende giù la mano che scende si materializza perché la mente del padre la goccia del cervello è molto interamente molto elevata molto raffinata la mano che scende giù diventa più materiale più grossolana e viene tramite i reni e i testicoli viene materializzata molto di più fino alla fine questa è una cosa che può creare un nuovo bambino e anche il concetto di Nezach Ehod si chiama Shachim Rechaim Shachim sono uno dei sette cieli che c'è scritto che in questo cielo ci sono le macine che macinano la manna pezza di Kim cosa significa questo? quando uno prende il grano e lo macina nella macina il grano che era duro immangiabile si sbriciola in particelle molto piccole e diventa farina così il padre deve rimpicciolire il concetto intellettuale che c'è nella sua mente e la saggezza che vuole trasmettere al suo figlio e macinarla in tanti piccoli pezzettini e dirgli poco pian pianino con consiglio cioè pensare bene come dire come trasmettere passo dopo passo ogni cosa al suo tempo altrimenti c'è il concetto di Nezar include anche il concetto di vincere vincere cosa? vincere tutti gli ostacoli che vogliono fermare e bloccare questa trasmissione dell'intelligenza dal padre al figlio ostacoli interni e ostacoli esterni gli ostacoli interni sono di di vincere la qualità di Kvura di forza di contrazione che c'è nel padre stesso e questa questa qualità la Kvura dice ma tuo figlio è ancora troppo piccolo troppo giovane non si merita che tu gli insegni queste cose qui nel monoscritto l'Italia è scritto manca perché? perché non spiega cosa sono gli ostacoli esterni e poi non spiega cos'è il hod in generale e nezza che in generale è vincere gli ostacoli interni e esterni non ha spiegato quali sono gli ostacoli interni vincere la Kvura non ha spiegato quali sono gli ostacoli esterni e poi non ha spiegato cos'è il hod in generale lo splendore esalterebbe passa agli esod il livello di esod è il concetto per esempio di legame di legarsi cosa significa? che il padre si connette si lega con la sua mente alla mente di suo figlio nel momento che il padre studia col figlio con amore con volontà lui vuole che il suo figlio comprenda senza questo amore questa volontà questa voglia del padre di trasmettere al figlio se il figlio sentiva queste stesse parole dalla bocca di suo padre mentre che sta studiando con se stesso e sta dicendo questa parola ad alta voce non avrebbe avuto questo stesso effetto perché il fatto che il padre ha amore e voglia e vuole che il figlio comprenda e la sua mente è legata alla mente di suo figlio fa sì che il figlio capisca molto di più se invece il figlio sente queste stesse parole dal padre ma senza questo legame non comprende così tanto e quando il padre lega la sua mente con la mente del figlio e parla con lui faccia a faccia con amore con desiderio che vuole molto che il suo figlio capisce allora è molto più profonda la comprensione del bambino c'è un discorso del Rebbe Tzemach Tzedek il terzo Rebbe di Lubavitch il nipote di altre Rebbe che cita questo pezzo di Tanya nel discorso però quando Tzemach Tzedek lo cita queste parole qui che sta studiando il padre per se stesso non ci sono il motivo che non ci sono queste queste parole è perché se anche il padre non sta parlando a se stesso ma sta parlando al figlio e sta insegnando quello stesso concetto al figlio però manca il concetto di Esod non vuole non ha questo grande amore non è connesso alla sua mente con la mente del suo figlio non ha quel tanto interesse che il figlio comprende allora il figlio avrebbe assorbito compreso molto di meno e chiaramente l'amore che c'è nella mente del padre verso il figlio che vuole legarsi col figlio questo amore può accendere il fuoco nella mente del figlio e dargli la voglia di comunicare come ognuno avrà sicuramente avuto esperienza nella sua vita che c'erano dei maestri che parlavano con emozione allora era piacere ascoltare questi maestri e imparare da loro c'erano maestri che erano molto monotoni intellettuali freddi uno facilmente si addumentava nella lezione anche se magari questo qui sta dicendo delle cose geniali perché non basta dire il concetto in maniera intellettuale bisogna metterci anche il cuore dentro è questo concetto di Esod di legare la mente dell'insegnante con la mente dell'alunno e dunque più grande è questo legame di Esod più grande è la trasmissione più grande è lo studio che il figlio potrà comprendere di più e il padre potrà insegnare di più potrà dare di più potrà trasmettere di più perché tramite il desiderio e il piacere allora si allarga la mente del padre che possa allargarsi la mente e dare di più e insegnare di più al figlio e come proprio materialmente la quantità di seme che esce dipende dal piacere e dalla voglia che c'è e dunque tramite che c'è tanta voglia e tanto piacere allora uno porta e più seme viene dalla mente per questo i saggi della cabala hanno paragonato il concetto all'unione materiale tra uomo e donna dunque dunque il concetto di conoscenza di legare la trasmissione intellettuale è stato paragonato e salam a tutti per ciò una mochina di del segnale Grazie a tutti.